Io ho svolto molti ruoli, c'è esterno centrocampista, nasco centrocampista però il mister è mezzata. Però il mister varie volte mi ha provato esterno, ho visto che stavo facendo bene e mi ha provato in quella posizione. Però penso che il modulo decide il mister qual è il più consono per la squadra e speriamo di trovarlo al più presto, il modulo migliore. Io sono una mezzala offensiva, anche se non ho tantissimi gol, però cerco di arrivare sempre a fare gol e di inserirmi sempre per cercare il gol. Noi abbiamo avuto molte occasioni, non le abbiamo concretizzate, è un'azione che fa l'altra squadra, ci segna. Questo è un po' il nostro piccolo difetto che speriamo in allenamento di migliorarlo. Il mister mi ha richiesto, io essendo anche abruzzese dalle sue parti ho accettato perché volevo fare un'esperienza fuori dal Pescara dove sono cresciuto e speriamo che questa esperienza andrà nel migliore dei modi.